Una coppia nel ballo e nella vita, Carmelo e Graziella Corsieri, da sempre appassionati di balli latino-americano, dal 1995 lo praticavano a livello amatoriale, dal 2003 in poi in ambito agonistico, fino al 2011, quando Carmelo è stato investito da una vettura davanti alla propria abitazione, riportando una grave ferita al piede che gli è costata l'invalidità permanente. Gli anni successivi sono stati difficili, ma la passione per la danza è stata la sua salvezza. Nel 2011 noi intanto andavamo alla grande, perché abbiamo vinto i campionati regionali, poi abbiamo fatto una coppia italica e siamo classificati al secondo posto, di cui poi, in causa di un incidente gravissimo, mio marito e io siamo dovuti stare fermi per due anni, perché lui è un invalido permanente al piede e alla caviglia. Però poi, dopo, con la sua buona volontà e la mente positiva, ci siamo di nuovo rimessi in gioco. E quest'anno abbiamo di nuovo iniziato a fare le gare, sperando non di fare chissà che per noi, e invece ci siamo accorti che, sin dalla prima gara della Coppa Italia, abbiamo fatto ottimi risultati. Intanto classificandoci al primo posto nei campionati regionali, al secondo posto nella ranking list in tutta l'Italia, e al quinto posto nelle gare nazionali a Rimini, di cui la federazione, ora di merito, ci passa in classe internazionale, di cui noi ora rappresenteremo l'Italia all'estero. Quindi siamo fieri ed orgogliosi, soprattutto io per lui. Lei naturalmente pensava di poter raggiungere questi traguardi dopo quell'incidente? No, con assentezza no, perché ovviamente per quello che diciamo io mi era un po' difficile pensarlo, però ho avuto molta fiducia veramente al Signore e credo quello che faccio, e ho tanta voglia di farlo. Con tanta voglia di farlo sono giunti a questi risultati, con la mia buona forza di volontà. Il ballo insomma l'ha salvata? Sì, il ballo mi serve anche per terapia tantissimo, veramente. Mi fa svagare a non pensare a quello che ho e mi ha aiutato tanto il ballo, veramente. Mi ha aiutato, ci convivo ovviamente, però il ballo, il sport a livello agonistico mi aiuta tantissimo. Un esempio per molti, rimarca Marco Dezio, consigliere di circoscrizione e nonché amico di famiglia. In questo caso il ballo ha aiutato una persona a reagire alla propria invalidità e a guardare di nuovo con fiducia la vita. Inoltre non nasconto un appunto d'orgoglio, perché si tratta di una coppia di scoglitti che è riuscita ad emergere nel panorama nazionale e speriamo anche internazionale.